No, direi no, direi no, direi no, direi no Siamo così, siamo così, siamo a fuoco Siamo a fuoco Ok, vabbè, iniziamo Enjoy people! Allora, oggi sono qua per fare un video molto molto speciale, non una vera non speciale Ovvero, allora, è tipo un 25 question tag, solo che l'ho tradito su tumblr, è diverso da quello che gira in giro proprio meno alcune domande, mi sa che sono le stesse però, e niente, direi In concetti subito! Qual è la tua nazionalità? Ah, io sono italiana, accendo barciando Qual è la tua materia preferita a scuola? Intervallo No, non lo so, direi inglese, no, il francese mi piace un sacco il francese Qual è il tuo drink preferito? L'acqua, no, l'acqua, l'acqua a cola dai Qual è la tua canzone preferita al momento? Allora, c'è una personcina carina, di cui non farò nome e di cui scoprirete presto nei prossimi video che mi ha messo in fissa con un cantante rap che si chiama Coetz e quindi sono andata in fissa con alcune di queste canzoni che sono Jet, lontana da me e Alice Bork e poi sono stra in fissa con l'album degli Urban Stranger non immaginate quanto sia bello ora, no, è bellissimo davvero fantastico Come vorresti chiamare i tuoi figli? Un maschio? Allora, o due femmine o un maschio e una femmina Allora, le femmine Lea perché non Lea di Eileus cioè anche però io amo il nome Lea Lea con locca però oppure Sara e invece se un maschio non lo so se un maschio non lo so a me piace tantissimo Leonardo però nessuno piace e c'è nel senso a me piace Leonardo quindi se mai riuscirò a cominciare a chiamarlo Leonardo quindi sì, così Lea e Leo Libro preferito di sempre? Libro preferito di sempre è sicuramente After però l'1 perché da lì comincia tutto quindi After 1 Colore preferito? Azzurro non so se lo vedete e il nero vive i colori felici Sei diplomata? No Faccio liceo linguistico e mi mancano ancora quattro anni e mezzo prima di diplomarmi e accidenti Sei mai stata fuori dall'Italia? Se sì, quante volte? Sì, sono stata fuori dall'Italia quattro volte tre o quattro volte non mi ricordo bene comunque sì, tre o quattro volte Pari un'altra lingua? Parlo inglese cioè parlo parlo italiano e sto imparando diciamo che parlo inglese francese e sto imparando il tedesco Yeah! Quanti fratelli o sorelle hai? Ho due fratelli e una sorella tutti più grandi di me Quale è il tuo negozio preferita? Preferita? Bello, bello Quale è il tuo negozio preferito? Il mio negozio preferito? il mio negozio preferito è Bershka oppure adoro tantissimo Alcott però è lontano, lontano, lontano e quindi è difficile andarci e quindi Bershka è un ottimo sostituto Ti piace la scuola? Sì, ma per gli amici Film preferito? Ok, questa domanda qua ci ho riflettuto un attimo perché io non ho un film preferito Io amo tantissimo i polpettoni rosa Io amo tantissimo i polpettoni rosa ovvero i film romantici come Colpa delle stelle e anche domani iscrivimi ancora città di carta che però non è molto romantico perché poi alla fine vabbè, non vi dico come finisce perché finisce male e comunque amo tantissimo i film romantici diciamo che forse Colpa delle stelle è il mio film preferito in assoluto e non vedo l'ora che esca il film di After perché in America è già uscito c'è già uscito c'è già la pubblicità ecco il trailer e quindi non vedo l'ora che scafter urlerò quando verrà in Italia quindi After sarà il mio film preferito in assoluto Spettacolo ti ho preferito? X Factor PC o Mac? Mac Mac, giusto? Si, Mac Che telefono hai? Un iPhone 4S che sta andando un po' a quel paese però lo teniamo Quanto sei alto? Bella domanda 1,60m molto tirato tirato perché sono abbastanza bassa quale parte del tuo corpo ti piace di più e quale meno ok allora è questa domanda non voglio fare bla non mi piace niente però ci ho pensato davvero e non ho una parte preferita di me se devo essere sincera direi che mi piacciono i miei capelli e invece meno tra tutto beh, ci sono molte cose che mi piacciono di me tipo il naso io odio il naso quindi direi il naso e gli occhi perché vorrei avere tantissimo gli occhi azzurri o verdi o qualsiasi altro colore non color cacca e poi sono finite le domande vabbè sono finite le domande quindi io vi mando un grossissimo bacio con il rossetto fantastico vi lascio qua tutti i miei social ovvero vi lascio instagram ask snapchat vabbè comunque tutti i social sono qua sotto nell'info box non vi costa niente andare a guardare anche perché mi chiedete spesso sotto i commenti con cosa registro con cosa ha letto con cosa ha letto tutto scritto nell'info box non mangia quindi vi lascio tutto qua sotto vi mando un grossissimo bacio di nuovo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao